Nuove nevicate in arrivo sulla Liguria. Il servizio di protezione civile della regione ha emanato l'allerta gialla per neve dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte. Le aree interessate dalle nevicate sono le valli Bormida, Stura, Scrivia, Trebbia e Aveto nell'entroterra genovese e savonese e la Valdivara nello Spezzino. Situazione più tranquilla in provincia d'Imperia dove si prevede un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con solo possibili deboli precipitazioni pomeridiane. Intanto proprio il maltempo delle ultime ore ha scatenato una polemica politica contro la regione. È bastata una nevicata, seppur abbondante, per mandare completamente in tilt l'intera vallata della Val Bormida con conseguenti gravi disagi a livello di trasporti e sanitario. Questa è infatti la denuncia arrivata dal portavoce del Movimento 5 Stelle in regione Liguria, Andrea Melis, che sottolinea come la problematica si sia già presentata in passato. Ora viene chiesto di fare al più presto chiarezza sulla gestione dell'emergenza da parte dell'intero sistema di protezione civile e dell'assessore regionale competente Giacomo Giampedrone.